Le forti piogge che da questa mattina interessano tutto il parmense stanno iniziando a creare alcune difficoltà. Sull'autocisa si viaggia con estrema cautela per ristagni d'acqua tra Borgotaro e Fornovo. Intorno alle 18.15 si è verificato un allagamento allo svincolo di Fornovo direzione Parma. Al chilometro 40-700, sempre tra Fornovo e Borgotaro, è stato segnalato un incidente, fortunatamente risoltosi senza problemi e senza bisogno di alcun intervento da parte dei soccorsi. L'allerta meteo gialla proseguirà anche per tutta la giornata di domani. Si prevedono temporali, piogge forti, circa 50 i millimetri che dovrebbero cadere, piene e frane. Le temperature massime oscilleranno tra i 21 e i 23 gradi. Da mercoledì gli spazi di sereno aumenteranno come aumenteranno le temperature. E da giovedì tornerà l'estate con le massime intorno ai 30 gradi.